Il Frosinone va a Capone l'ultima giornata di andata e recrimina con se stesso e con l'arbitraggio di Celi. Tutto Bergamasco il primo tempo al dodicesimo Gori, raso terra al lato, poi a Cellini a girarsi ma a calciare debole. Il Frosinone si nota solo per il pressing di Martini che mette in difficoltà Marchetti, bravo a mantenere la calma. Poi ancora al Binoreffe, Ruopolo vede l'inserimento di Cellini fermato sul più bello da Sicignano. Al decimo della ripresa la gara cambia volto quando Amerini si fa espellere per il doppio giallo. I padroni di casa ne approfittano immediatamente, la punizione di Carobbio incoccia la traversa, il pallone si impenna, più l'esso di tutti Peluso che regala il vantaggio ai Bergamaschi. Sicignano poi deve salvarsi in affanno ancora su Carobbio. Finalmente la reazione del Frosinone, Lodi cerca il pari con un sinistro insidioso sul quale vola Marchetti. Poi Contè per questo falo di mano viene ammonito, ma i canarini reclamano il rosso. Al novantesimo invece Bonazzi serve Carobbio, gran botta di sinistro sotto l'incrocio per il 2-0. Continua così il digiuno del Frosinone che sabato si reca a Lecce. Ma è una partita decisa sicuramente dalla terna arbitrale, gravissime le decisioni che hanno preso in tutte le circostanze e purtroppo alla fine l'hanno decisa loro. Ne prendiamo atto, sappiamo che può succedere questo e andiamo avanti. Le munizioni di Amerini ne potevano dare 20 a tutti, è inciso, siamo rimasti uno in meno. Poi abbiamo fatto partita di più dell'avversario, abbiamo creato delle opportunità, bravo il portiere e bravo ancora l'arbitro a decidere su un episodio gravissimo e grande.